Io sono così, ma se no parlate voi, diciamo che loro non sanno niente, lui non sanno niente. Allora, oggi abbiamo parlato con una persona importante, che è la dottoressa Barillà, che è la dirigente dell'ufficio della pubblica amministrazione, che è quella che decide nel merito dei decreti e che li porta avanti, li analizza. La quale ci ha detto sì, noi abbiamo ricevuto la settimana scorsa, ma io non l'ho neanche letto. Ma non per niente, perché non gliel'hanno passato. E quindi sì, ho letto di massima quello che c'è scritto. Allora, intanto è una persona molto responsabile, si vede una persona seria che ha chiesto delle cose concrete, non discorsi un po' perché avevano fretta e dovevano andare via, però in quel poco tempo in cui sono stati hanno ascoltato molto e soprattutto hanno voluto i numeri, perché quello su cui ci siamo basati è stato dire che questa operazione non si può fare, perché ci sono già sulla carta i sovrannumerari. Perché ci dite questo? Quali sono? Prima ce l'avevo un po' messo a fare i calcoli, poi il dato concreto è a livello nazionale ci sono 1700 posti degli amministrativi e circa 800-700, io ho detto 8, ma forse sono 700, va bene, per i tecnici, che se facciamo il calcolo 3.500 meno questi ci danno 1.100 sovrannumerari, a meno che uno non vada proprio solo sugli amministrativi perché arriva al 1700. Questo è stato il dato che loro hanno acquisito e hanno espressamente detto che questi dati sono importanti. Ha detto la dottoressa, io non so se ci sia una relazione